partiti in vantaggio il malandrino davanti a Queen Charlotte, Veo Veo, Ve Gaia, Zacca Strada, Sunshine Horse e Starry Sky dopo 200 metri di corsa in vantaggio il malandrino davanti a Veo Veo con all'interno Queen Charlotte a seguire Zacca Strada, Sunshine Horse, Ve Gaia e Starry Sky all'inizio della curva prosegue in vantaggio il malandrino davanti a Veo Veo, Queen Charlotte, Zacca Strada, Sunshine Horse, Ve Gaia e Starry Sky poco prima dell'ingresso in dittura prosegue in vantaggio il malandrino davanti a Veo Veo, Queen Charlotte e Zacca Strada i cavalli entrano in dittura con il malandrino in vantaggio lungo la corda davanti a Veo Veo, Ve Gaia, Perline Interne, Zacca Strada, Queen Charlotte e Sunshine Horse è sempre in vantaggio il malandrino davanti a Zacca Strada, Veo Veo, Queen Charlotte e Ve Gaia è sempre in vantaggio il malandrino davanti a Veo Veo e Zacca Strada, resiste il malandrino davanti a Veo Veo, Zacca Strada e Queen Charlotte è sempre in vantaggio. Le� what? Grazie.